ciao oggi prepariamo un polpettone di lenticchie perfetto anche per le feste ho trasferito le lenticchie nella ciotola in acciaio della mia chef baker pesandole direttamente con la bilancia integrata comodissima ho insaporito con spezie prezzemolo aglio senape succo di limone olio evo e ho lavorato qualche minuto con la frusta k il composto deve stare insieme se necessario potete frullarne una parte immersione per creare la giusta consistenza ho incorporato il pangrattato ho utilizzato uno stampo da pane foderato con carta da forno che ho spennellato con salsa di soia ho aggiunto il rosmarino e pressato il composto ho cotto in forno 200 gradi per 30 minuti e ho fatto raffreddare prima di capovolgerlo questo è importante l'ho infine servito con verdure cotte crude di stagione e una quasi maionese di sesamo trovate tutti gli ingredienti e il procedimento su canvote club vi lascio il link diretto nelle stories ciao un bacione e alla prossima un bacione e alla prossima